La soluzione per avere la storia comune è la blockchain. Praticamente le transazioni che vengono trasmesse sulla rete peer-to-peer vengono raccolte in un block che contiene un hash di quello precedente. Per chi non sa cos'è un hash non è molto importante, la cosa essenziale è che queste transazioni vengono raccolte in un block. Ognuno di questi blocchi è legato in modo univoco a quello precedente. Quindi c'è una catena, che è detta blockchain, e il punto fondamentale è che in questo modo è impossibile cambiare un blocco passato senza cambiare tutti quelli successivi. Perché cambiando una transazione in un blocco passato cambia il suo hash e vanno cambiati anche tutti quelli successivi. Allora l'idea adesso qual'è? È quella di dire che per creare un block non basta creare una cosiddetta nulla ma bisogna spendere una certa quantità di energia, bisogna fare un certo lavoro computazionale. e in questo modo si può controllare la posizione di blocco e rendere in un certo senso mentre ci conferma. Ed esattamente questa è l'idea, l'idea della proof of work, la prova di lavoro computazionale, nel senso che uno per creare un blocco deve dimostrare di aver fatto una certa quantità di lavoro computazionale. e questo dal punto di vista informatico viene fatto in questo modo che secondo me è molto carino. Uno deve proponere il suo blocco e alla fine del blocco ci aggiunge dei bit in modo che quando tutta questa cosa sia hashata dia una stringa che inizi con n0 allora chiaramente appunto per chi sa le funzioni di hash questa cosa è in un certo modo siccome io dall'output di una funzione hash non sono in grado di trovare non ho modo intelligente di cambiare l'input per ottenere un certo output l'unica cosa è provare tutte le possibili stringhe di bit finché ne trovo una che per caso per fortuna mi dà una stringa come n0. il lavoro in me è praticamente esponenziale nel numero di 0 penso che se io aumento il numero di 0 mi richiede esponenzialmente più lavoro che avrà una stringa di bit che vada bene e questo infatti è il parametro che viene tarato periodicamente in modo da controllare la posizione di blocco. allora se appunto come dicevo prima per cambiare un blocco a questo punto dovrei cambiare tutti quelli successivi e a questo punto se per cambiare un blocco mi serve fare un certo lavoro computazionale per cambiare un blocco dovrei fare il lavoro computazionale di quel blocco e di tutti quelli successivi e in questo modo vabbè sicuramente chi chi fa questo lavoro computazionale che ha detto sono dei free miners che sono quelli che ci erano prima ha ricompensato con 25 bitcoin per ogni blocco creato ci ha autorizzato a mettere come prima transazione nel blocco una transazione in cui dà a se stesso 25 bitcoin che precedentemente inesistenti e quindi l'idea è che il lavoro fa uno servizio che rendono sicure la rete nel senso che se io faccio una transazione finisco in un blocco come passa il tempo vengono messi molti altri blocco davanti e diventa più difficile diventa sempre più difficile cambiare quella in cui c'è la mia transazione e come incentivo appunto a non riempire il bitcoin e quindi appunto il blocco è una serie di transazioni in cui la prima è la transazione in cui mai riceve 25 bitcoin poi ci sono tutte le transazioni raccolte dalla rete c'è l'hascio del blocco precedente c'è questa stringa di bit detta nonso che il miner prova a cambiare continuamente finché tutta questa cosa ha lasciata di dare mezzare e poi appunto questi blocchi provano a questa blockchain con le transazioni e quindi questa capita come funziona la blockchain questo risolve il problema originario del block spending del double spending perché il double spending corrisponde appunto a una biforcazione della catena in quanto io appunto metto due transazioni diciamo una onesta e una disonesta in cui cerco di invertire diciamo una onesta in cui mando certi bitcoin a una persona e poi un'altra in cui ne mando la stessa quantità a un altro indirizzo magari che possiedo io quello che succede è che magari la prima transizione finisce in un blocco e io dovrei per riuscire a impugliare il sistema dovrei riuscire a mettere la mia dovrei riuscire a mettere la seconda quella disonesta in un blocco e invece a scartare la prima e quindi crea una biforcazione della blockchain però siccome c'è appunto c'è anche la regola secondo un po' più lungo della blockchain è sempre quello che ha ritenuto valdo allora sostanzialmente ogni miner può votare nel senso che può dire secondo me è questa la catena autentica questa contiene delle due transazioni se c'è una biforcazione una ha una transazione una quella diciamo su due transazioni in contraddizione ogni miner può dire no io ho ricevuto per prima questa e quindi continua ad attaccare i blocchi a questo ramo qui secondo me questo è quello che ho detto e in questo modo quello che succede è che se io voglio fare vincere diciamo la se voglio impugliare devo avere più potenza di di calcolo di tutto il resto che avrete messo assieme perché devo riuscire ad aggiungere blocchi al mio ramo disonesto più velocemente di quanto tutti gli altri stanno facendo a quell'altro quindi capito questo appunto rivediamo che hanno tutte le le caratteristiche che aveva l'oro sono scarsi sono di qualche sono trasportabili chiaramente molto più dell'oro perché si possono andare da una parte dell'altra del pianeta in molti istanti e indifferentemente che la quantità sia equivalente diciamo a 10 centesimi o a 10 miliardi di euro è assolutamente uguale sono appunto per il principio critografico secondo cui il più facile criptare che le criptare sono facilmente identificabili ma difficilmente falsificabili sono non deteriorabili sono anzi prodotti in una rete molto più prevedibile che l'oro perché appunto ogni tot blocchi viene dall'algoritmo stesso non dall'autorità centrale dall'algoritmo stesso viene alterato per il pramisto n per cui come aumenta la potenza dei miners su tutta la rete diventa anche più difficile produrre bitcoin e quindi c'è un meno più occhio tot bitcoin a ci metterlo in tempo e si ho finito giusto come considerazione originale appunto questo era dal punto di vista informatico perché sennò interessati l'altro punto di vista sarebbe appunto quello economico e quello è un certo senso un grosso esperimento perché una moneta con queste caratteristiche non è mai stata usata c'è l'oro appunto ma l'oro è più o mai una non viene usata non viene usata come valuta viene usata come investimento come per mantenere diciamo per fare storage di valore economico una moneta con queste caratteristiche non è mai stata usata non ci sono precedenti in cui una moneta che si venga usata nella società e quindi è interessante serve anche interessante ci sono molte considerazioni da fare che non non lo so ma un po' nessuno lo sa perché appunto ciò succederebbe se tutti usassimo il bitcoin ha una caratteristica molto diversa quindi è un po' sono anche per questi interessanti qui ci sono delle referenze c'è il pack originale di Satoshi Nakamoto il wiki che ha molte informazioni però vabbè fonti più riguardo alle news e discussioni e poi c'è questo blog post di su questo questo blog che è appunto da cui ho preso questo discorso di del paragone dell'oro delle caratteristiche dell'oro grazie 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 grazie